Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Questa volta vi farò vedere un aggiornamento su EOS File Store, che è un tool che sto sviluppando, che serve a caricare file sulla blockchain di EOS. Rispetto alle interazioni precedenti, questa volta c'è l'interazione con Scatter, che è un wallet per EOS che si integra anche con le pagine web. Allora, perché mettere un file su una blockchain? Ci sono diversi fattori interessanti, il primo è l'immutabilità, quindi una volta che voi avete caricato un file sulla blockchain, questo file non può più essere modificato, questo può essere utile per, diciamo, eventuali contratti, oppure se si tratta di un file criptografato, potete dimostrare che voi sapevate in passato un qualcosa che al tempo attuale potete dimostrare appunto di sapere in passato. Quindi avete la prova temporale di quando avete caricato il file e appunto anche chi è che l'ha caricato. E non ultimo, questo tipo di servizio è gratuito, ovvero per poterlo utilizzare c'è solo bisogno di avere abbastanza EOS in staking, però questi EOS non vengono consumati perché è un po' come se fosse un abbonamento a 30 giga al mese. Voi avete diritto a una certa quantità di EOS come CPU, rete e memoria, però appunto la CPU e la rete non vengono consumate, dovete però avere abbastanza EOS che vi permettono appunto di avere diritto a una certa quantità di consumo in una certa quantità di tempo. Ok, quindi come funziona? Prima cosa, se dovete fare l'upload c'è bisogno di fare il login con Scatter, invece per il download non c'è questo problema. Quindi dovete avere Scatter installato e quindi c'è il supporto sia Scatter Desktop che è un wallet EOS che integrerà anche il supporto all'hardware wallet. In alternativa c'è Scatter, l'estensione di Chrome che appunto vi permette di integrare molto facilmente Scatter all'interno del vostro browser. Invece nel caso di Scatter Desktop dovete comunque tenere l'estensione in background aperta per poter interagire con le web app che lo supportano. Quindi qua ci sono le risorse e vediamo come funziona. Clicco su login con Scatter. Qui adesso sta aprendo una finestra di Scatter che mi permetterà appunto di selezionare l'account. E questo appunto dipende da un po' di fattori. Vediamo, sì qui è sbloccato. Allora, vediamo se mi è aperto. Ok, la finestra era andata in secondo piano. Quindi, login with Scatter. Ok, apre la finestra di Scatter. Solo che appunto per qualche ragione non me la metto in primo piano. Qui ovviamente dovete avere Scatter già configurato. Quindi selezionare il vostro account EOS e poi fare accetta. Quindi vedete, adesso lo state utilizzando come... con il vostro account e potete fare l'upload. Quindi qua vado a selezionare il file che voglio fare l'upload che è questo qua. EOS File Store. Questo qui è una svg. E verranno generate diverse transazioni che mi permetteranno di appunto fare l'upload del file. Questa è la prima transazione. Quindi viene usata l'azione che si chiama Upload dello smart contract di EOS File Store. E quindi faccio accetta. Verranno riproposte più schermate di questo tipo. Quindi se vi fidate potete abilitare questa modalità qua. Altrimenti fate accetta e vedete appunto di volta in volta tutte le transazioni che servono per dividere il file e pubblicarlo a pezzi sulla blockchain di EOS. Ovviamente più il file è grosso, più transazioni saranno necessarie. Ok, questa qui è la ricevuta. E appunto dando in giro questo codice è possibile ricostruire il file direttamente sul computer della persona. Quindi questo file diciamo non esiste fisicamente da nessuna parte. Quindi vado a inserirlo qui. Qui appunto sta prendendo le varie transazioni dalla rete EOS. E qua potete vedere appunto i dettagli. E una volta scaricato dovrebbe essere visibile. Ok, chiudiamo questo. Quindi questo pulsantone blu vi dice appunto che potete fare tasto destro e aprirlo in una nuova tab. Come vedete il file non ha un URL perché è tutto qua. Questo qui è il contenuto del file. E appunto potete... Ok, comunque lo potete ingrandire perché è un file vettoriale. In alternativa, visto che si tratta di un file immagine, potete anche vedere appunto l'anteprima direttamente qui dal sito. E se volete linkarlo a qualcuno potete anche copiare questo link qua e mandarlo. In questo caso verrà ricostruito nel momento in cui parte il caricamento della pagina. Quindi appunto viene ricostruito in automatico senza dover incollare e fare in via perché parte in automatico. Questa appunto era la presentazione di EOS File Store. Trovate appunto i link in descrizione e sul sito. E che dire, spero che il progetto vi piaccia e fatemi sapere cosa ne pensate. E vi saluto e ci vediamo in un altro video. Ciao a tutti!